Rimaniamo in tema di presepe e facciamo un salto nel tempo. Arriviamo proprio a Greccio, 800 anni fa. E godiamoci questo momento di bellissima atmosfera. Dicono che un giorno lui tornò, deserti monti e mari attraversò, la terra santa ancora dentro un cuore dell'anima. C'era la neve e un borgo da lontano, come un miraggio a barfiare. E piano, piano, e di un pensiero lui si illuminò nell'anima. Nell'anima. Betlemme, lui disse, Betlemme qui, Betlemme ovunque, ovunque Dio. Natale è comunque per tutti noi. Natale per sempre ci prenderà nell'anima, nell'anima. E fu così che un presepe si inventò, su prima idea che a tutto il mondo regalò. Lo stanco sì, ma sempre sorprendente nell'anima. Dicono poi che una fonte si fermò, davanti a un crocifisso si piegò, e nelle mani segnato lui nel fu e nell'anima. Un soffio, un uraccio, un brivido, un fuoco d'amore unico. Un fuoco d'amore che a niente all'io, soltanto stupore perché c'è Dio. Nell'anima, nell'anima. C'è sempre Dio, nell'anima. C'è sempre Dio, solo Dio. Grazie a Massimiliano Varrese, Marina Muraro e a tutta la compagnia di Chiara e Francesco. Il musical L'amore è quello vero, scritto fra gli altri da Pietro Castellacci, con la regia di Oreste Castagna. Gli stessi autori di Forza Intelligente, per cui è un marchio di fabbrica abbastanza importante. Mi sembra un musical bellissimo, molto emozionante. È un racconto di fede, di ricerca, di semplicità e gioia e di grande musica. Grazie, veramente, grazie. Ma non andate via. Restate con me.